Amici dell'ABA, studenti non studianti, tec! Sul Suncorda, oggi parliamo di uno degli imperatori più importanti del Medioevo, forse il più importante, Federico II di Svevia, il nipote del Barbarossa, il quale aveva ereditato dal padre Enrico VI tutto il Sacro Romano Impero e dalla madre Costanza d'Altavilla tutta l'Italia meridionale. Ebbene, questo ragazzo, Federico II, avendo perso i genitori molto giovane, fu allevato dal papa, il quale naturalmente sperava poi di avere, una volta che Federico fosse diventato grande, in lui un grande alleato. Finalmente nel 1220 poteva assumere il titolo di imperatore. Andò in Germania e qui si rese subito conto che doveva arrivare a un compromesso con i forti principi tedeschi del suo impero, per cui per ottenere la loro fedeltà concesse molti privilegi ad essi. In realtà Federico II amava la Sicilia, amava il Sud Italia, tanto è vero che gli trasferì la sua corte, la sua capitale intera, addirittura a Palermo, dove organizzò una corte meravigliosa, chiamando i migliori scienziati, filosofi, artisti, poeti di tutto il Mediterraneo, di qualsiasi religione fossero, ebrei, cristiani, musulmani. Fu così bella la sua corte, così importante per la storia d'Italia e di tutto il Medioevo, che gli venne attribuito il titolo incredibile di stupor mundi, di stupore, di meraviglia del mondo. Potete immaginare, un tedesco a Palermo era il non plus ultra. Ma qui, in Sicilia, egli non si fece mettere i piedi in testa dai feudatari, dai principi, come aveva dovuto subire in Germania. Questa volta rivendicò interamente il suo potere. Tutte le tasse dovute al sovrano dovevano essere ripristinate. I giudici erano esclusivamente giudici nominati da lui. Controllava totalmente l'esercito e aveva rafforzato in maniera significativa la burocrazia. La burocrazia lo sapete con l'insieme di uffici di persone che gestiscono e amministrano uno Stato. Naturalmente egli voleva esercitare il pugno di ferro, perlomeno in Italia, dove poteva. E quindi l'autonomia dei comuni gli dava parecchio fastidio. Egli, al contrario del nonno, riuscì a sconfiggere i comuni a Corte Nuova, qui vicino a Bergamo. Tuttavia il suo sogno si infranse molto rapidamente quando alla sua morte gli successe il figlio Corrado IV, che però morì soli quattro anni dopo. Di Federico II ci sono moltissimi ricordi nel sud Italia. Il bellissimo Castel del Monte in Puglia. Se non sbaglio in Basilicata, aspettate che controllo. Castel del Monte in Puglia, giusto. Le sue leggi, le sue costituzioni sono andate avanti per secoli. Tuttavia il suo regno ebbe una fine molto brutta. L'altro figlio di Federico, Manfredi, che successe a Corrado IV, fu invece sconfitto da parte di Carlo d'Angio, il fratello del re di Francia, chiamato dalla chiesa, preoccupata che Manfredi potesse espandersi anche nei suoi territori. Dunque tutta la straordinaria dinastia sveva, che era cominciata con Federico I, il Barbarossa, era terminata in maniera, come dire, ingloriosa con il povero Manfredi, anche se aveva avuto il suo picco più alto con lo straordinario Federico II. Il nuovo regno, Carlo d'Angio, nel sud Italia, però, si alienò subito le simpatie dei sudditi. Prima di tutto trasferì la corte da Palermo a Napoli, figuratevi palernitani come erano infuriati, e inoltre aumentò le tasse e attribuì molte terre nuove ai feudatari francesi. Tira molla, nel 1282 a Palermo scoppia una terribile rivolta schiamata dei Vespri Siciliani. Gli insorti chiesero aiuto a Pietro d'Aragona, l'Aragona è più o meno l'attuale Catalonia in Spagna, che aveva sposato la figlia di Manfredi e dunque rivendicava il diritto al trono. Dopo numerose guerre, con la pace di Calta Bellotta, nel 1302, finalmente gli Aragonesi si tennero tutta la Sicilia, mentre gli Angioini il resto del sud Italia. Questa è una panoramica molto breve, riassuntiva, se vogliamo, di tutto quello che successe della dinastia Sveva fino alla fine in Italia. Ma anche il papato andava sempre di più tribolando, perché il papato, che è l'altro grande sole tra i poteri medievali, impero e papato, appunto, voleva rivendicare non solo il potere spirituale, ma anche quello politico, temporale, come si dice. E ci furono straordinari pontefici, molto forti, molto tosti, come Innocenzo III, che ci riuscirono, e altri, invece, molto più deboli. Ma la maggior parte dei fedeli, soprattutto nei monasteri, nelle parti più vitali della Chiesa, rivendicavano un maggiore ritorno alla spiritualità e al Vangelo, abbandonando quella politica, appunto, temporale propugnata dalla Chiesa. Troppa politica per la Chiesa non andava bene. Seguendo queste idee viene eletto uno dei pappi più strani della storia, un'eremita, Pier Damorrone, un'eremita abruzzese che se ne stava lì tranquillo sulle montagne della Maiella a pregare, con infama di santità, viene incredibilmente eletto papa su spinta, diciamo così, popolare. Il povero Pier Damorrone, che diventerà il papa col nome di Celestino V, però, reggerà per poco. Dopo pochi mesi, deciderà di abdicare dal soglio pontificio, cioè di rinunciare al titolo di papa, ricordatevelo bene, Celestino V, perché è stato il primo papa ad abdicare nella storia bimillenaria della Chiesa. Il secondo è stato, quello ancora vivo oggi, Papa Ratzinger, Benedetto XVI, scusate. Al posto di Celestino V venne eletto un papa molto più politico, molto più scaltro, molto più spregiudicato, il famoso Bonifacio VIII, il quale ne combinò di tutti i colori, nel bene e nel male. Pensate che per fare un po' di soldini istituì il giubileo della Chiesa Cattolica, cioè un anno santo, durante il quale tutti i colori quali si fossero recati a Roma in pellegrinaggio avrebbero ottenuto l'indulgenza plenaria, cioè il perdono di tutti i peccati. All'epoca ci credevano tutti, come sapete. Ma la sua ingordigia, la sua fama di potere lo portò a scontrarsi con Filippo, detto il bello, re di Francia, il quale non ci mise né due né tre a ordinare addirittura l'arresto del papa. E qui ci fu un famoso episodio, Lo schiaffo di Anagni, in cui addirittura un inviato del re di Francia schiaffeggiò, osò schiaffeggiare, pensate un po', il papa che si ribellava al re di Francia. Filippo detto il bello. Tira molla, tira molla, nel 1317, no scusate, nel 1305, ho sbagliato io, il re Filippo il bello di Francia vuole che tutta la corte papale, che tutto lo stato della chiesa, si trasferisca da Roma ad Avignone, nel sud della Francia, per controllarla meglio. Nasce quel periodo terribile per la chiesa di 70 anni, chiamato la cattività, cioè la prigionia avignonese, cioè ad Avignone, era la prima e unica volta, nel corso dei 2000 anni di storia, che la chiesa non risiedeva a Roma. Pensate un po', incredibile. Spero di essere stato molto sintetico, ma chiaro, naturalmente utilizzate come sempre il libro, perché quello che compare nei miei video è il riassunto delle cose fondamentali, in realtà basterebbe sapere quello che spiego io, ma se volete sapere qualcosina di più, approfondire qualcosina di più, mi raccomando, ovviamente abbiamo il libro. See you later, Allieviator! In a while, Crocodile! Bye!